Il ruolo della donna nell'antichità, questo il tema della giornata promossa per sabato 5 marzo dalla soprintendenza per i beni archeologici della Calabria in concomitanza con l'avvicinarsi della festa della donna. La manifestazione si svolgerà grazie alla collaborazione delle amministrazioni dei comuni di Santa Maria del Cedro e di Tortola e sarà mirata all'approfondimento della condizione femminile nel passato. Le relazioni di studiose internazionali come Priscilla Munzi e del Saint-Jean-Berard di Napoli affronteranno il tema della condizione della donna partendo dalla sfera strettamente familiare per analizzare poi le attività e i compiti che esse hanno rivestito nella società dell'antica Grecia a tutto il mondo italico. Tutto ciò a partire dalla diretta esperienza di donne impegnate in importanti realtà culturali dell'Italia meridionale legate alla conoscenza e allo studio del passato. Le donne che da sempre hanno avuto un ruolo centrale nella società saranno chiamate ancora una volta a dare con la loro incisività e la loro passione un contributo determinante nella sfida di gestione della modernità che in particolar modo al sud passa attraverso responsabilità e coscienza collettiva valori condivisi e salvaguardia del bene comune. La manifestazione sarà coordinata dal dottor Gregorio Aversa e avrà luogo alle ore 17 nella sala conferenza del Palazzo Marino già carcere dell'impresa nel comune di Santa Maria del Cedro. Le introduzioni saranno affidate a Simonetta Bonomi della sovrintendenza per i beni archeologici della Calabria mentre per le conclusioni è previsto l'intervento di Maria Francesca Corigliano assessore alla cultura della provincia di Cosenza. In mattinata la visita guidata alla mostra permanente archeologia per Tortona frammenti dal passato allestita nel 98 presso il Palazzo Casa Pesena che insieme al parco archeologico dell'antica città di Raus a Marcellina rappresenta la principale realtà espositiva nel settore archeologico dell'Alto Tirreno Cosentino.